Stiamo andando verso il distretto 1, la nostra zona di sicurezza dal giorno dello scoppio dell'infezione. Fuori dalla zona di sicurezza, Londra è ancora una terra abbandonata. All'interno del distretto 1 è completamente sicura. Siamo a casa. Quanti anni hai, Andy? 12. Credo che tu sia la persona più giovane di tutto il paese. Bentornato in Inghilterra. Papà! Papà! Dove sei mancato? Dio! Credevo di non rivederti più. Ti piace? È bellissimo. Che è successo alla mamma? L'ultimo uomo infetto è morto sei mesi fa. Noi non eravamo qui sei mesi fa. Maggiore, di cosa ha paura? Se dovesse ritornare? Non ritornerà. E se lei si sbaglia? Se ritornerà, lo elimineremo. Codice rosso. Le chiedo scusa per tutte queste precauzioni. È un protocollo standard per tutti i sopravvissuti. Voglio vedere i miei figli. Eseguire codice rosso. la città. Eseguire codice rosso. Eseguire codice rosso. Grazie a tutti.